buongiorno bentornati o benvenuti sul canale di lorenzo ciacca andiamo a esplorare la home di disney plus così se troviamo qualche film che vi siete persi o se non sapete cosa guardare vi consiglio un po di titoli allora incominciamo dalla copertina il primo è black widow ve lo consiglio o non ve lo consiglio aspetta un attimo guy ve lo consiglio o non ve lo consiglio ma io vi dico che se siete fan della marvel dovete guardarlo per forza per solo che per questione di continuità vi tocca guardarlo non è un film che comunque si è uscito bene dai io l'avevo visto al cinema e poi di nuovo quando è uscito qua disponibile su disney plus e anche la seconda visione ve lo confermo non è un film uscito bene mi dispiace ma la mia risposta è no andiamo avanti e invece questo film qua dovete guardarlo assolutamente free guy eroe per gioco con reynolds wattiti regia di levi di il nome adesso mi sfugge chuan 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 revi chuan levi mi sembra bellissimo bellissimo questo qua veramente vi divertirà un sacco guardatelo assolutamente andiamo avanti questo non l'ho visto e non so cosa sia ma non è che me questo qua neanche ma sto qua vorrei vederlo in realtà in curiosiva y l'ultimo uomo lo sto guardando la sto seguendo questa serie molto carina molto molto carina praticamente tutti gli esseri maschili tutti gli esseri con il cromosoma y muoiono e succedono casini tranne uno ovviamente non vi dico altro guardate ve la ve la consiglio molto carina molto molto carina andiamo avanti war of the wars la guerra dei mondi vista dal punto di vista europeo quindi se spilberg ci aveva fatto il film in america qui è il punto di vista europeo non è legato ovviamente è preso sempre dello stesso libro ma non è legata alla storia ed è carino lo sto seguendo anche questo qui lo sto seguendo cosa posso dirvi ancora niente praticamente arrivano questi alieni e morte distruzione sopravvivenza molto sopravvivenza ovviamente l'uomo i i superstiti si devono riunire uscita la prima stagione e adesso sta uscendo la seconda e lo sto seguendo carino 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 la prima stagione l'ho recuperata praticamente in tre giorni me la sono praticamente mangiata perché proprio ti ti porta a mangiartola a casa tutti bene bel film l'ho visto un sacco di tempo fa ce ne sono un sacco di attori italiani c'è accorsi c'è favino ce n'è un sacco un bel film di muccino regia di muccino filmetto carino molto carino piacevole ecco non è molto impegnativo ma è carino non è da buttare via quindi serata che non sapete cosa guardare serata che non avete voglia di impegnarvi vi mettete a casa tutti bene vi passate del tempo ve lo godete sto filmetto qua senza troppo impegno però bello però bello questo qua non ho idea di cosa sia continua ad apparirmi prima o poi ci guarderò cos'è the walking dead io devo dire che the walking dead non l'ho mai vista neanche mai la prima puntata ce l'ho in in lista ma per il momento non me la sento anche perché poi ero andato a vedere ai tempi come cosa ne pensava la gente e dicevano a tutti che si perde un po andando avanti perciò magari mi guarderò la prima serie la prima stagione e poi vediamo halloween vabbè qui collezione di halloween bisognerebbe spulciarsela però vedo già dei film che sono delle bombe quindi per halloween guardiamo c'era la collezione di halloween su via infatti a parte i mappets che io i mappets li odio cioè ci darei fuoco questi pupazzi di merda the great north sempre interessante ma non so cosa sia questo lo lasciamo a chi ha meno di tre anni chip e chop anche e simson la paura fa 90 sono tutti gli episodi immagino di halloween quindi qua io per forza mi ci butto a capofitto perché sono anche gli episodi che io adoro quelli di halloween quindi sì andiamo un po vedere invece in giro per la home cosa esce ovviamente ci sono tutti i marvel vediamo 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 c'è anche un sacco di roba italiana allora troviamo la da dei libri che va visto fin dalla madonna avevo visto i tempi veramente bello ve lo consiglio vediamo se ci mi danno più di dettagli su cui raccontarvi qualcosa regia di brian percival che è anche il regista di grace tra l'altro grace una parte del film di grace su grace di monaco era stata girata qui a genova andiamo avanti come vi avevo già detto su netflix mi raccomando sonso fanarchy guardate la sparatevela tutta mangiatevela in due settimane mangiatevi tutta la serie in due settimane se ci riuscite perché è veramente un capolavoro di serie tv veramente un grandissimo capolavoro di serie tv vi consiglio oceano di fuoco con vigo mortensen film meraviglioso tratto da una storia vera di lui che ha questo cavallo e va a fare la più grande corsa del deserto con il suo cavallino con il suo palosa bellissimo 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 meraviglioso un film che va visto vi godete veramente quanto dura due ore due ore di film meraviglioso veramente l'avventura inizia quando il famoso fantino frank hopkins interpretato da mortensen si iscrive alla massacrante competizione oceano di fuoco con il suo mustang hildago bellissimo sto film qua tra l'altro ha passato delle cose il nostro fantino veramente assurde poi nei consigliati mi esce alamo gli ultimi eroi alamo gli ultimi eroi che del 2004 è un grandissimo film è il film dell'eroica dell'eroica vicenda dei 200 uomini coraggiosi che fecero l'estremo sacrificio per la libertà difendendo un piccolo forte del texas per 13 giorni contro l'intero esergito messicano era quando ci fu la guerra fra spagnoli e americani o erano già non mi ricordo se erano ancora spagnoli o se erano già già messicani ma forse erano già messicani non mi ricordo fatto sta guardatevi alamo grandissimo film che c'è anche david crockett che è il film a cui è l'evento a cui partecipò anche david crockett altro film che vi consiglio è alita peccato che non sembra che vogliono continuare questa serie a me è piaciuto veramente un mondo sto film qua mi è piaciuto veramente un sacco sto film qua c'è di nuovo christoph waltz no non voglio guardarlo non voglio guardarlo non voglio guardarlo volevo parlarne ci troviamo di nuovo davanti a christoph waltz regia di rodriguez e roberto rodriguez io non so perché non l'abbiano continuato perché è veramente qualcosa di meraviglioso è veramente un capolavoro da ogni punto di vista dai registri visionario james cameron vedete e roberto rodriguez alita ragazzi angelo della battaglia qualcosa di veramente meraviglioso sto film ma io credo che non vogliono continuarlo veramente un peccato perché è veramente un film della madonna io vorrei che lo guardaste tutti tutti proprio che il mondo lo riguardasse tutto e così che la produzione possa andare avanti e portare i prossimi film perché è veramente un peccato che si venga che venga fermato qua poi vedo un cave che continua a comparirmi ma non so di cosa parli the cave dipinge un emozionante ritratto di coraggio resistenza solidarietà femminile in un ospedale sotterraneo siriano gestito da una giovane pediatra vabbè nel momento in cui sarò troppo felice per vivere mi guarderò the cave andiamo avanti guardiamo un po se c'è qualcosa fra le commedie italiane ci sono c'è il trio c'è fanto c'è tutto fanto c'è verdone verbo talco di verdone bellissimo fanto zi gallo cedrone gallo cedrone fu il primo film di verdone che io andai a vedere al cinema ragazzi perché qui c'è un buco fra i due film c'è un buco vabbè lasciamo perdere like to me volevo guardarlo ma non l'ho ancora visto anzi aspettate che me lo metto in lista se non ce l'ho ancora messo no non ce l'ho ancora messo devo guardarlo devo trovare il tempo però c'è timmerotto ragazzi nemico pubblico ragazzi nemico pubblico è un film che bisogna guardare per forza di nuovo uno di quei film base che uno deve avere bellissimo meraviglioso con un will smith potentissimo potentissimo jungle cruise l'ho guardato al cinema mi sono addormentato quindi dovrò rivederlo perché mi sono perso mezzo film carino carino da un certo punto di vista però forse dura poteva anche durare un'ora in meno che avrebbe fatto più bella figura ora c'è sta tendenza di far durare i film due ore due ore e mezza per forza se non durano due ore e mezza allora boh cosa sono cortometraggi ormai vabbè vendetta di sala perché c'è un buco nero qua in mezzo vabbè allarme allarme rosso forse devo ancora vederlo non mi ricordo dicevo ordine di confermare di lanciare l'unice nucleare segnalare l'inizio della terza guerra mondiale devo ancora vederlo raga niente ci lasciamo qua mi guardo allarme rosso vedete che ogni volta trovo un film che mi manca bene spero di esservi stato utile fatemelo sapere nei commenti se avete visto qualche film che ho consigliato e se vi è piaciuto fatemi sapere voi qualche film che dovrei vedere e che magari avete visto passare ma di cui non vi ho parlato iscrivetevi e cliccate sulla campanella così da non perdervi i prossimi consigli rapidi delle tre piattaforme di cui vi faccio sempre le recensioni vi farò sempre le recensioni queste qua sono le prime e che dire alla prossima ciao 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 ciao